salve a tutti ragazzi bentornato benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura qui su f1 manager è uscita finalmente la patch che porta al gioco la versione 1.11 sono state sistemate quelle problematiche che erano un po assurde sono capitati a noi nel gran premio di singapore una non potersi sdoppiare una volta che si è che entra in pista la safety car se vi ricordate arriviamo rimasti purtroppo penalizzati da questa cosa e l'altro è la possibilità di sorpassare i piloti se si è doppiati la possibilità di sorpassare i piloti che non sono doppiati ma che magari sono più lenti di noi cosa che era successo a singapore con schumacher che non riusciva a superare Russell malgrado fossimo più performanti e più veloci quindi a detta loro hanno sistemato la cosa hanno anche migliorato l'effetto sci andandolo leggermente a potenziare e diminuendo la forza diciamo del DRS sono tutte opzioni che è possibile eventualmente tornare diciamo alla fisica tra virgolette precedente entrando nelle impostazioni del del gioco nel menu principale si può passare appunto tra una versione e l'altra di queste di queste modifiche di default avete attivo la versione ultima quindi della patch 1.11 poi hanno migliorato alcune cosette insomma però il grosso diciamo della patch appunto erano queste problematiche più che altro sulla safety car se non ricordo male anche il degrado della benzina o delle gomme non mi ricordo sempre della IA in base ai pit stop insomma ci sono state comunque alcuni accorgimenti questa dovrebbe essere l'ultima punto patch del del gioco ora non so se ne rinasceranno magari qualcosina piccolina per limare e sistemare qualche qualche cosetta ma insomma qualcosa di di grosso da qui in poi non uscirà più perché come avevano già anticipato vanno a concentrare gli sforzi sul gioco che uscirà sicuramente il prossimo anno e quindi tutto il tema dei sviluppo essendo comunque abbastanza piccolini si concentrerà sul nuovo titolo sperando che facciano ovviamente tesoro di quello che hanno sviluppato adesso magari partendo appunto da questa base per poi andare a sfruttare il le conoscenze e ampliarle poi con il titolo successivo quindi siamo fiduciosi e vediamo come andrà a finire allora concentriamoci un po' qui perché veniamo dal gran premio del giappone in cui siamo andati abbastanza bene purtroppo con kevin non siamo andati a punti ma c'è stata una buona prestazione di di mic terminando in decima posizione con una grande difesa sul sul finale con le gomme molto usurate con gli altri arrabbanti dietro di noi quindi veramente avuto un'ottima un'ottima gara allora ci segna già che abbiamo il puntino rosso credo per via del del contratto perché è l'unica cosa che in teoria ci segna che manca dato che il contratto scadrà tra tre mesi allora contratto rinnova contratto allora avevamo detto una stagione vediamo già fatto però quanto pare no va bene allora contratto attuale lui c'ha sempre per un anno 540 magari diamogli un incentivo a più bonus forfettario di 50.000 quindi come minima dobbiamo eguagliarlo se no non ci rimarrà e buono spiazzamento anche qua 50 50 mila sono tutti i bonus ok soglia bonus dal 10 ingiose dal primo capirai quindi soltanto lo stipendio aumentare di 10 mila dollari e il resto è tutto rimasto uguale vediamo un po se gli va bene niente non sta giù di niente soldi vanno bene contratto rifiutato perché puttana riprendi negoziazione è mica però come sta a fare il prezioso eh oddio non mi ricordo che era lo stipendio andava bene la soglia era uguale no lo stipendio non gli andava bene perché mi sa che ne voleva un po di più non posso aumentarti di due stagioni mica tutta la buona volontà diciamo che sei ancora in prova via un po non so quante volte posso offrirlo forse anche non accetta niente perché ovviamente vuole ancora più sordi com'è sta cosa vabbè due stagioni e fai 590 va bene alle brutte te licenziamo prima eh cioè niente ma scusa quanto cazzo vorresti scusi vieni da 540 ma che cacchio vuoi vabbè capito che stai per due stagioni capito frate 520 ah non posso più farlo cazzo al momento questa persona è interessata a trattare con questa squadra vabbè si è cazzato pazienza grazie ansa vedi come rimane a piedi vabbè e allora disponiamo di nuovo ok sottoscocca perché qua l'avevamo fatti fuori un bel po infatti ne abbiamo beh ne abbiamo tre in verità eh non è che stiamo proprio al limite più che altro siamo al limite di alettone anteriori però io sto sempre aspettando che facciano il nuovo upgrade però rischiamo veramente di rimanere un po' a secco allora va il magazzino e facciamone altri due produzione magari li facciamo normali tra tre e sei giorni dovrebbero comunque andar bene aspetta sennò che c'è affrettato vai due quattro giorni si stava un pochettino più sul sicuro e allora vediamo un attimo le mail l'altra è questa qua vabbè sempre sottoscocca 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 tecnicamente ce l'abbiamo però sottoscocca ce ne morrei vabbè perché ne dobbiamo fare un altro praticamente vabbè facciamo pure questo e via vai continua un po' produzione completata allora ho notato che l'herzio è stato usato in pessime condizioni quindi che garantisce prestazioni tutti si stavamo veramente all'osso e allora questo dovremmo cambiarlo ragazzi purtroppo cosa che andiamo non andiamo ancora in penalità se andiamo in penalità ma che c'è mo più questo è al 36 per cento questo sta al 35 niente ragazzi andiamo in penalità lo so ma non c'è non c'è funziona però ovviamente per ora teniamoci questo qui al 36 poi come sempre in fp3 montiamo quello nuovo altra cosa pilota emergente durante la ricerca di nuovi talenti non si scatta l'individuato olivier beckmann sembrerebbe avere un notevole potenziale di allego alcune informazioni al suo riguardo ma ti consiglio soprattutto di consultare il suo profilo e di richiedere ai nostri scout un'analisi dettagliata le informazioni potrebbero suggerire l'opportunità di negoziare un contratto in futuro a margine se ritiene utile questa indicazione ti consigliamo di aggiornare la struttura del reparto scouting che ci garantisce queste risorse e vai allo scouting dei piloti aspetta volevo fare aspettare ho sbagliato volevo fare questo scouting dettagliato ai 30 giorni e via sto cercando sempre un sostituto dei fitti paldi sinceramente allora vediamo un po' se micchia adesso gli evate poter contrattare un attimino il nuovo contratto allora eravamo rimasti a 6 20 dai due stagioni che cazzo è mai di più niente e che questo sta chiedendo troppi sordi non per di scusi non c'è moto per di quanto vorresti non c'è una tua offerta fammi un'offerta vediamo scusami è stipendio pensiero 51 mila e beh che cacchio vuoi ad averceli non so riprendi negoziazioni ma quanto cacchio vuoi stavo a parlare di micchi schumagher cioè sta a farlo già e niente non gli va più sta a farlo tempo che tirano troppo in verità allora è arrivato la lettura anteriore è arrivato anche l'altro sotto scacca che altro c'è la produzione del progetto la lettura anteriore h2 è appena stata completata ok quindi abbiamo quello nuovo proprio giusto il tempo quando ho fatto gli altri due al momento abbiamo quattro design di questo compagnolo in magazzino se ritiene opportuno ah vabbè questo è quello di prima ok ok non pensavo fosse la ricerca no 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 questi sono quelli che avevamo già richiesto perché abbiamo anche la ricerca della lettura anteriore ma ancora non è arrivato allora micchi questa è l'ultima opportunità però se no niente non gli si può fare al momento questa persona non è interessata paziente per la trattativa al lavoro nell'attuale weekend di gara e vabbè micchi vediamo un po' che altro ci avevamo cosa ci offri il panorama allora albon nessun interesse ovviamente questo stampicciato cari bull va a vedere chi viene da noi allora alexander smogliar molto alta disponibilità a trattare però a questo 21 anni c'è a 61 il problema è che mic alla fine dei conti non è che sta proprio messo male è il problema è che non è il top c'è sempre giovinazione qui che c'è a 28 anni però arthur leclerc 60 questo è da tenere diciamo per far crescere questo iwasa già c'è a 70 valutazione generale questo bread senza contratto addirittura che altro c'è allora valutazione generale lasciando ovviamente i bicchi che col cacchio che verrebbero da noi l'avevamo già visti però avevamo visto botta schiera intenzione a trattare o con non c'è interesse ovviamente e quando mai il norris sta casato in mclaren questi difficilmente verrebbero dovremmo trovare qualcuno nessuno interesse beh capito vuoi finire stare in f2 questo volendo sì daruvalla f2 24 anni 74 mic quanto c'ha? 76 c'ha 23 anni mic toccherebbe tenerlo toccherebbe tenerlo buono vabbè vediamo dai allora parzialmente nuvoloso previsione di chiara quindi per fortuna non dovrebbe piovere questo è l'anteprima ok allora obiettivi slot garanzia posizione in qualifica spero ehm dio non vorrei sbilanciarmi troppo in verità perché il tracciato è abbastanza ostico per noi quindi facciamo dalla dalla tredicesima poi con entrambi i piloti dai vogliamo un pochettino più bassi AQ3 Avedo impossibile sinceramente posizione finale giro più veloce non lo faremo mai questo serie posizioni qualifiche uguale posizione qualifica quattordicesimo beh quattordicesimo spero magari infinito di più dalla dodicesima piazza con un pilota solo ovviamente ok direi che ci siamo ragazzi andiamo al circuito delle americhe a cota tracciato molto interessante benvenuti al gran premio degli stati uniti per questo non mi dispiace aspettatevi cowboy in pista questo weekend solo la potenza dei cavalli sarà di sicuro una gara memorabile al circuito delle americhe non manca nulla tornanti salite ripide curve veloci e un settore 2 in cui spingere al massimo un delicato gioco di equilibri anche se le squadre puntassero a massimizzare la deportanza la stagione è agli sgoccioli e il tempo stringe per le squadre dobbiamo aspettarci una svolta spettacolare o i piloti in testa riusciranno a resistere lo scopriremo presto signore e signori a voi la formula 1 ok allora vediamo un attimino prove libere nuvoloso cielo sirena è parzialmente nuvoloso quindi non dovrebbe piovere non dovremmo avere sorprese allora essetto come sempre allora qua già dobbiamo scaricarla anzi no caricarla a bestia e anche qua allora facciamo tipo così e vediamo come va così giusto per averci un'indicazione per quanto riguarda la trazione un clicchettino in meno e via ok dai per mic potrebbe andare bene pure così ma sempre una ventina di giri mentre per Kevin vediamo un po' è lui già un pochettino più verso destra quindi diamo un clic un po' in meno la spostiamo così la trazione però più verso destra anche lui forse un po' troppo ok dai più o meno così vediamo come come fa se gli piace o meno anche lui una ventina di giri ovviamente all'inizio andiamo così a tentativi giusto per avere qualcosa e mescolo i soft dai ok dai andiamo in prova libera una ragazzi e vediamo un po' com'è la situazione allora e ritorno in pista dai ragazzi via le terme coperte e iniziamo il lavoro torno in pista anche mic ma sempre il primo giro ragazzi ce lo facciamo un board qui c'è una grandissima salita con il tornantino qui poi si scende tratto centrale che sembra lo snake di suzuka tutte curve in successione poi curva qui a sinistra si va giù in discesa per una staccata che porta al rettilino lungo ci vorrei una buona trazione per sfruttarlo ovviamente tutto e avere anche una buona accelerazione e velocità di punta qui staccata curva a sinistra si entra nel terzo settore anche qui abbastanza lento curve abbastanza strette qui c'è tutto il curvone sulla destra poi la staccata con una curva qui a sinistra molto infame perché va a chiudersi sul finale e poi di nuovo sul traguardo quindi possiamo ora velocizzare la questione vediamo un pochettino come è sempre di attendere che i nostri piloti prendano confidenza se col tracciato che con il setup e che ci diano feedback eccolo già per poco Kevin se l'annava a muro bravo Kevin così ci piace ha già già iniziato annazio eh ancora c'è stato un bloccaggio vabbè questo ci fa semplicemente ripetere quello che è successo non so quanto possa essere competitiva la nostra vettura qui eh sarà interessante scoprirlo come stanno girando gli altri chi gomma è gialla chi bianca chi rossa insomma sempre dei tipi di lavoro differenti per il momento stiamo con Mick in quattordicesima e Kevin in quindicesima aspettando come sempre il loro feedback ricordiamoci che a Kevin dobbiamo cambiare l'hertz quindi comunque è una vettura con le prestazioni un po' inferiori attenzione le cose blocchiate ecco la ha già sfonato tutto c'è ma ha già sfonato tutto ma che storia io ti devo credere di far il contratto il tasso del feedgar niente auto ritirata già ma che cazzo hai fatto cioè ma io te so si riesco amiche ma non per dire io te ho cerco di datterla una possibilità ma che hai fatto un impatto è andato drittissimo è andato drittissimo dannazione quindi niente stop the car e niente dai mic purtroppo finita subito la sessione per lui solo che Kevin ci deve pensare e basta l'azione ci deve pensare a alza tappo andiamo un po' lato ha buone sensazioni vabbè non non ottimali quindi qualcosa sicuramente l'abbiamo l'abbiamo sbagliata facciamolo continuare intanto a girare così prende anche i percentuali sulla conoscenza come sono usurate dai fanno l'ultimo giro e via anzi rientra subito evitiamo di far impicci se no fa danni anche lui allora vediamo un po' cosa abbiamo combinato di setup stabilità infinita perfetto abbiamo già becchiato i rettilini qua io penso che dobbiamo semplicemente caricarla e ok stabilità rimettiamola come prima la sterzata dobbiamo cercare di migliorarla quindi lo facciamo così ok proviamo un po' così la trazione invece stiamo su bene quindi proviamo a metterla un po' più verso destra ancora ok ok allora andiamo a montare un altro set di gomme rossa e problema le gomme questa 20 giri ne fanno va bene ne fai 17 dai mic purtroppo ha sfasciato tutto quanto e vediamo per lui sarà un casino assolutamente perché non abbiamo praticamente potuto girare né scoprire il setup se subito andrà a schiantare e quindi nell'fp2 e 3 sarà molto importante cercare subito di trovare la quadra del setup sperando di risisteva pure Kevin il prima possibile così magari ci concentriamo solo su mic dai Kevin ti avete un po' sottotono ultimamente stiamo pure con i rossi a girare insomma quindi 17 non è che stiamo andando proprio benissimo assolutamente no anche che abbiamo l'hertz un po' consumato però stiamo faticando e non poco sarà un gran premio molto molto difficile per noi dobbiamo cercare magari di inventarci qualcosa stile stile gran premio del Giappone attenzione incidenti in pista Kevin sta a posto sempre un po' paura chi si è chi si è ammazzato c'è un incidente rassolo vediamo un attimo che ha fatto qui possiamo vedere la Mercedes dove è andato via micchia praticamente io ho detto questo è l'incidente però lui è riuscito comunque a tenirla no qui era andato dritto Magnussen micchia è andato a sfacellarsi mi pare alla fine del rettilineo è andato praticamente dritto sfandando tutto sia telaio che chi ha l'anteriore speriamo di averci i componenti il sottoscacca l'avevamo fatto non l'avevamo fatto uno solo ora non l'abbiamo fatto attenzione altro incidente che cos'è dritto SFG car ignora dai 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 continua diamo chi altro si andrà a sfacerare su un'ata attenzione anche lui sul rettilineo diamo una Ferrari addirittura ah l'ha tamponata come sa attenzione attenta il sorpasso tamponata oddio come l'ha sbattuto allora è andata su un'ata su un'ata è andata all'altra pista praticamente guarda qua sfonavo tutto corello questo è un colpo durissimo sicuramente ci sarà anche una penalità forse vabbè vabbè virtuoso safety car vabbè quindi vediamo se cavini riesce a darci sto feedback dell'ultimo componente ok virtuoso safety car terminato mancano tre minuti si dai e come sono andati niente 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 le rosse durano forse quindici giri non manco dai dai tanto è finita la cosa niente non ci ha dato feedback praticamente ce l'abbiamo soltanto quattro su cinque aspetta no forse no ottima sensazione vabbè è già già qualcosa dice fiducia alta quindi mi veda pensare che insomma qualcosina l'abbiamo sistemata per bene allora sia le clerche che science con penalità e anche albon con penalità vediamo un po 82% vabbè dai non male mic non pervenuto allora vediamo un attimo i componenti l'hanno già cambiate vabbè il motore danni lievi 43% il motore ce l'ha emma un altro dovremmo andare a spendere soldi questo a quanto sta 43% 42% 36% e 34% 43% allora in teoria ci mancano questo Gran Premio e altri due se non ricordo male Brasile Abu Dhabi e perché mi ricordavo fossero 5 quelli che mancavano vabbè stavo a pensare se cambiarlo eventualmente prendiamo penalità ma insomma non è che stava andando poi moltissimo bene quindi che partiamo terzo ultimi ultimi penalità insomma non è un problema però perlomeno avremo un motore nuovo per la fine della stagione perché 43% insomma non è il top dai facciamo st'acquisto e via dai montalo ok anzi forse pensa che non pigliavo manco penalità forse no vabbè vediamo dai sì sì infatti ok dovevo proseguire per il per l'ok sulla penalità sì sì va bene dai ripeto tanto non mi sembriamo in forma per questo Gran Premio quindi meglio scontarla adesso che magari in un altro momento in cui abbiamo delle prestazioni migliori allora vediamo Kevin siamo all'82% dobbiamo sistemare ancora sta cosa di rettirini quindi secondo me devo ancora caricarla un pochetto ci abbiamo due perfetti da dover sistemare e la sterzata in verità la sterzata proviamo così e la trazione la devo rimettere qua ok quindi la verità in frenata così sterzata proviamo così da st'altra parte e sovra sterza qua devo rimetterlo ok no perché ma la sterzata me la dio che casino sistemare questi parametri è un bordello e no questa la devo rimettere super così proviamo così magari questo mi diventa perfetto e questo riusciamo a prendere qualcosa di buono allora prima di ci butterei dentro le bianche adesso e 20 giri ce li dovresti fare senza grossi problemi eh sì certo ho fatto una cazzata che le modifiche avrei dovuto fare le prime dell'inizio della sessione però vabbè Mic tu stai ancora in alto mare quindi gomma bianca per te e gira come se non c'è fosse domani vabbè ero quasi tentato di mettere il terzo pilota girà visto quello che chiacchia è combinato vai torna in pista in verità non sfascia niente per cortesia perché stiamo veramente missi male dai famo entrare pure Kevin vediamo un attimino allora quindi Mic abbiamo già montato il motore nuovo che altro c'è il bilanciamento ah perché già c'aveva delle informazioni prima ok allora aspetta rientra subito dentro pensavo se fosse risettata invece no ci ha dato il feedback di quelle precedenti e allora abbiamo un 56% quindi male sui rettilinei male la trazione bene questa la mettiamo qua il perfetto sulla sterzata che però dobbiamo far così questa la mettiamo così no allora aspettate che qua è un po' un casotto carichiamo un attimo sta macchina non troppo magari ma anche lui non la vuole scarica addirittura proviamo un attimo così così e sta sterzata dobbiamo rimetterla un attimo su perfetto possibilmente e la stabilità è infrenata proviamo a metterla un po' più di qua ok proviamo così e niente ritorna dentro e via appena fanno ovviamente le le regolazioni del caso allora come stanno girando gli altri ovviamente ora hanno tirato fuori le soft anche loro e ritorna in pista per il momento Kevin è in 17 posizione però vabbè stiamo con le gomme bianche ci potrebbe pure stare il problema è che prima con le rosse non è che andavamo poi molto più veloci quindi capite bene che la vedo molto molto difficile per noi a parte queste gomme che si consumano un boato già stanno al 75% dai ci serve un po' di un po' di feedback quindi vedi da da fare in fretta perché Kevin ci sta a mettere un casino per darci feedback sul setup ne sta a fan per un po' dei giri dai 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 per il momento il Schumacher si pia 4 decimi da da Magnussen l'Erso sta facendo le bizze addirittura se ci abbiamo avuto qualche problemina tecnico allora vediamo un po' il feedback di Kevin come ti sembra ottime sensazioni ok facciamolo rientrare vai vai rientra rientra aspettiamo che ci di anche anche Schumacher allora vediamo un po' 83% dobbiamo sistemare sta sterzata e il sovrasterzo allora secondo me dobbiamo magari scaricarla a un filino tipo così cerchiamo di mettere la stabilità di nuovo su la cosa buona e la sterzata tocca portarla verso destra quindi questa la carichiamo questa trazione era già su perfetta ma così la è un po' spostata ok tipo così tipo così vediamo così dai allora le bianche potrebbero ancora andare vai riesci e vediamo ovviamente quando si trova la la zona perfetta c'è un po' di margine sia a destra che a sinistra quindi magari quel quel che basta per poter poi pareggiare un altro valore beh torno in pista vediamo mic che tra l'altro è ancora ultimo buone sensazioni buone ma non ottime ok rientra immediatamente c'è 18 minuti cazzo siamo ultimi e penultimi è proprio un ottimo gran premio ci spetta guarda allora sta vita infinita perfetta sterzata perfetto trazione proprio male i rettilini allora quindi dobbiamo caricare un po' la macchina tipo così nei rettilini dobbiamo caricarla ancora un po' pure qua è molto che rimetta a posto queste sterzate e quant'altro quindi questa la rimettiamo così e questa la rimettiamo così e la trazione così ok vediamo un attimo si 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 ritorizza no 30 giri ne fai vabbè 30 ne farai ma sicuramente una ventina si davvero quanti ne fai 18 addirittura queste come bianche addirittura e allora vabbè stanno a metà dai gli esci così mancano 17 minuti sa che manco gli ha fai a fare questi giri in 17 minuti dai i meccanici veloci purtroppo stavo veramente messi male cioè scena che c'ha mezzo secondo da da Kevin c'è veramente tanto Kevin c'ha tre decimi dalla tifi ok che noi stiamo come bianche ma strollo pure c'è come bianche albon vabbè quelle sono macchine diverse però aspetta albon c'è la williams stiamo pure peggio che la williams stiamo andando quindi c'è veramente qualcosa che non va ok che non stiamo in modalità aggressiva insomma e quant'altro però insomma non è che stiamo proprio girando benissimo siamo particolarmente lenti vediamo un po' se Mick riesce a migliorarsi un po' che tira perché sto mezzo secondo dal compagno sono tanti che è che assaltare tutta una sessione testa coda niente Mick ma proprio che cazzo hai fatto hai preso pure un altro che è successo ma che hai fatto sì ma ma se l'ha preso qualcuno ha preso che è successo era Clay e niente era troppo grave dancià pure avete aveva inviato qualcuno era troppo grave che non ci hanno fatto manco vede Mick mamma mia proprio male 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 cioè ripeto gli volevo dare una possibilità però non può fare sta cosa non può quanto ci hanno dato 10 secondi ok understood what the situation è stato già c'era una pena in età cioè veramente assurda sta chiara allora cala il sipario anche sulla fp2 e niente siamo ultimi e penultimi cioè una cosa spaventosa ripeto ok che stiamo con le bianche però insomma la vita è molto molto dura più che altro perché non abbiamo avuto feedback sulle ultime modifiche quindi le prove volgono al termine e si sta avvicinando il momento delle qualifiche è pure un po' di nuvole le terze prove libere consentono alle squadre di apportare le ultime modifiche all'assetto e c'è una commenta intermedia così a caso buttata in box nelle qualifiche non ci sarà più tempo per i ripensamenti i piloti dovranno dare il massimo se vogliono riuscire a scalare la griglia e assicurarsi la posizione più favorevole possibile nella gara di domani e cosa ci riserva la giornata lo scopriremo presto ok allora abbiamo quest'ultime prove libere per cercare di raddrizzare un po' la situazione allora vediamo un attimo cosa ci dice qui ok un perfetto l'abbiamo già buttato in grande quindi qua questa abita è in frenata l'abbiamo l'abbiamo troppo spostata e la sterzata ancora niente cioè sterzata mettiamola così e questa abita è in frenata e la trazione la lasciamo così e qua tocca caricarla ancora un po' sta macchina se vede ok ok dai proviamo così e vediamo se se può andar bene purtroppo sto un po' chiuso con i vari parametri perché se muovo uno poi mi sembra ovviamente tutto il resto ed è un casino devo cercare di muovere la trazione il problema è che vabbè proviamo proviamo così proviamo così e vediamo allora e gomme bianche sì gomma gialla scusate allora Mick invece che ci dice i perfetti non si sa non so perché già ha torti male quasi rettiline quindi è decisamente troppo carica ok ok e qua non lo sappiamo come deve essere niente deve deve girare c'è poco da fare deve deve girare anche tu gialla 20 giri e via stiamo stiamo veramente messi male ragazzi a sto giro veramente messi male allora subito in pista ragazzi non ci abbiamo tempo da perdere iniziate a girare e via cercando di non far danni Mick ha sfasciato la macchina nella prima prova libera ha causato un tamponamento quando si è girato e ci abbiamo preso la penità cosa ci aspetterà nella terza prova libera non lo so dovremmo aspettarci di tutto attenzione capito che stai ancora conoscendo il tracciato però questo non è una scusante stiamo anche discutendo per il rinnovo del contratto quindi non lo so visto gli ultimi avvenimenti il problema è che nelle ultime gare è pure andare bene cioè l'ultima gara alla fine del decimo posto l'ha preso lui con le unghie proprio ha fatto veramente una grande gara di difesa e quant'altro poi te fai le prestazioni del genere e te cascano le braccia cioè come fai a dargli effettivamente fiducia quindi non lo so vediamo un po' comunque la gara è difficile già abbiamo la penità del componente modificato cazzo non ho cambiato l'hers non ho cambiato l'hers qua porca non ho cambiato l'hers ma non me lo fa cambiare mi sono scordato e vabbè per quello gli dava che l'hers aveva problemi perché già sta mezzo mezzo e mezzo vediamo un po' se prima delle qualifiche me lo fa cambiare ma non lo so mi sa di no vediamo un po' che dice dall'auto ottima sensazione ma andiamo un po' ritorna vediamo schumacher intanto buone sensazioni quindi ancora non ottime secondo me è per via dell'hers che Kevin ha problemi con la macchina possiamo cambiarli da qua no vabbè vediamo se ce lo fa prima delle qualifiche allora abbiamo un bello 88% dobbiamo sistemare sta trazione però assolutamente e il problema è che se vado a modifica qui mi si modifica tipo il mondo beh manco tantissimo stabilità infrenata e purtroppo qua dei rettilini devo giochicchiare con l'ala anteriore perché se muovo la posteriore mi sembra troppi click quindi proviamo a lasciarla un attimino così mi ributta una gomma rossa queste gomme vanno via che è un casino cioè in un attimo una cosa assurda in gara sarà un casino cercare di capire allora purtroppo i due perfetti sono diventati grandi quindi siamo pure andati in meno e non è sempre questa cosa che non l'hanno sistemata perché mi sovrascrivi cioè se io ce n'ho uno che ho fatto perfetto voglio poter tornare a quello una volta che ha cambiato niente dove si è buttato così deve essere così è inutile che metti migliore mi metti bacchette se poi non lo riesco più a ritrovare quella configurazione lì vabbè non la capisco questa cosa spero che la sistemi perché è decisamente assurda allora e niente devo caricarla ancora sta macchina ma quanta voi carica sta macchina mic 9.5 rettilini fanno bene ma devo scaricare invece stabilità infrenata la andiamo a rimettere un po' e trazione proviamo così proviamo così anche tu gomma rossa anche tu 20 giri non li fai però 14 spero di sì veramente in alto mare ragazzi veramente cioè veramente molto difficile e Kevin purtroppo sta pagando il problema sull'Hers infatti non non vanno i setempi non vanno ritorna in pista ritorna in pista mic c'è una sedicisima posizione che comunque parte dal fondo per via delle sostituzioni della penalità che ci hanno dato per via del contatto insomma lui sicuramente partirà dal fondo infatti insomma cose fai e fai qualifiche figurate però Kevin mi dispiace oddio adesso ha fatto un tredicesimo tempo già qualcosa mic undicesimo dai che è successo siamo risvegliati tutta una tutto un attimo soprattutto loro come stanno girando perché noi stavamo girando con le con le gialle prima quindi quelle gialle praticamente naimo ritmo con la bianca fa un undicesimo tempo quindi per il momento siamo a tredicesimi e dodicesimi che già insomma sono posizioni più adatte alla nostra vettura vediamo un attimo se riuscissimo poi a cambiare il componente prima delle qualifiche sarebbe ottimo se prendiamo anche penalità pazienza ragazzi Kevin sta veramente faticando adesso con con l'herz così un po' ballerino allora le come già stanno al 39% vediamo se arrivano a darci feedback che no scena che sta rientrando adesso mancano pure 4 minuti figura quanto siamo andati grande perfetto grande male addirittura di trazione quindi questa la dobbiamo rimettere così queste le rimettiamo così però qua cerchiamo di ok e i rettilini non lo sapremo mai vabbè vabbè posso pure montare un'altra no un'altra gomma non la monto metti questa intanto mancano 4 giri non voglio farlo usci voglio solo confermare le le modifiche niente sta rientrando pure Kevin anche lui non termina tutte le le cose trazione grande e sterzata purtroppo non abbiamo feedback quindi dovremmo poi basarci su su quello che ci ci dirà la la qualifica perché comunque loro ugualmente prendono con Firenze con Setup e quant'altro però per il momento non abbiamo niente da fare purtroppo non siamo riusciti in queste prove ad avere una buona percentuale già da subito quindi siamo un po' ad inseguire purtroppo allora terminano anche le FP3 prima Sainz Vestappen e Leclerc le due rosse entrambe con peranità sicuramente andranno a cambiare di componenti mentre noi terminiamo oddio non mi ricordo la posizione che avemmo fatto dodicesima e tredicesima va bene dai quando abbiamo montato le con le d'angria 13 posizioni e minchia cioè ce l'hanno dati 10 per il cambio dei componenti e 3 per l'incidente credo marcatrota una cifra dannazione allora no qua c'è da cambiare sterz montalo ok qui c'è pure il motore ma il motore non c'è pure danni gravi mamma mia montavo pure questo vai pioggia di penalità in casa ass via via componenti nuovi e via scatola del cambio al 61 guarda quante ne abbiamo prese scatola il cambio incredibile vabbè il 61 può ancora andar bene a posto dai andiamo in qualifica ragazzi avremo penalità quindi io ripeto non so manco se ci conviene farla una una qualifica o meno la Q1 dai diamo tutto in Q1 e poi vediamo Nick c'ha 13 posizioni che so le cifra allora vediamo un attimo proviamo a farci un unico giro e allora intanto con me rossosiccio e lan abbiamo tre gomme rosse volendo da da sfruttare partiamo qua quando c'è un po' di di calo e Kevin mi pare soltanto forse solo 10 posizioni vai vai in pista ok forse l'ho fatto partire troppo in anticipo d'annunzione vai in pista eh sì ferma 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 che stiamo allora ma Kevin è già partito eh sì è partito adesso andiamo a bordo scusate l'ho accelerato un po' troppo stiamo già nel nel rettilineo mettiamo i tempi quindi 25 a 7 il primo settore per Kevin andiamo a velocizzare un pochettino però c'è il lungo rettilineo una vettura davanti che fa zig zag si sposta forse proprio mic dannazione te vuoi toglie dannazione se so addirittura ostacolari tra di loro ma dai 39 a 1 il settore centrale c'era mic che sta a far riscaldare gomme dannazione andiamo sul traguardo in settima posizione però buongino settima posizione non è male quindi andiamo a seguire invece Mick con il fatto che si è trovato pure Kevin nella parte del secondo settore e Mick invece si trova una Red Bull che credo si stia lanciando ci lascia spazio bene prima della staccata 25 a 8 il primo settore per Mick troppo non mi ricordo i tempi di Kevin attenzione macchine davanti a lui che potrebbero rallentarlo 39 a 180 mi sembra in linea con i tempi che aveva Kevin l'Alfa Romeo si piazza in mezzo e ci rallenta dannazione dannazione nel settore centrale cioè nel terzo settore e niente andiamo sul traguardo in decima posizione per il momento quindi sicuramente vabbè ci sono ancora Sainz Ricciardo e gli due Red Bull a fare il giro che andranno sopra quindi come minimo scalamo quattro posizioni di sicuro pure Ricciardo ci passerà davanti allora secondo me ci conviene uscire nuovamente ora con Kevin e con Mick poi appena rientra in box rifacciamo uscire anche lui così Kevin c'ha un giro spero libero così da potersi migliorare oddio potremmo forse pure stare tranquilli però non lo so abbiamo comunque la penità a noi se riuscissimo comunque a passare perlomeno in Q2 non sarebbe affatto male la situazione tanto che scalavano 10 posizioni shumaka di 2 a 13 però allora dai gomba rossa per lui nuovamente conferma e rientra in pista vai scema che farà il giro quando ci sarà un po' più di casino mentre Kevin dovrebbe poter passare spero che prima che escono tutti gli altri vediamo un attimo se riesce è sul rettilineo si non esce nessuno quindi c'ha soltanto Mick davanti c'ha solo Mick davanti spero che sia anche abbastanza lontano in verità che non debba romperci le scatole oddio sta arrivando velocemente pure non sta colare il compagno vediamo un po' se se lo trova sul rettilineo dovrebbe essere un'ottima cosa tanto va a migliorarsi nel primo settore Kevin 25,6 Mick sta alla fine del rettilineo vediamo un po' forse non se lo trova davanti forse veramente nell'ultimo 38,7 si migliora molto il settore centrale gioca a 39,1 se non ricordo male quindi buon primo settore cioè settore centrale si lo troviamo soltanto nel finale quindi possiamo togliere la spunta forse guadagniamo pure un pochettino di sci a 31,2 saliamo in settima piazza per Kevin grande gran tempo per lui si chiama Mick che ha un alfa Tauri che non si sposta quasi all'ultimo in verità infatti primo settore pessimo per Mick peccato mai ha avuto la possibilità di fare un giro buono vediamo se riesce a migliorarsi magari nel settore centrale poi erano che blocchiate lo cazzo se è nato vabbè pure nel giro di rientro riesce a fare ma come è possibile sta cosa vabbè dato che abbiamo visto la curva prima di rettilineo si chiama un attimino Schumacher nel settore centrale 39.0 comunque abbastanza alto e Kevin aveva fatto 38.7 insomma quindi è comunque abbastanza alto come tempo andiamo a vedere come va a concludere il suo giro Schumacher si migliora ma non abbastanza per guadagnare posizioni è ancora quattordicesimo al limite della zona retrocessione diciamo sono partiti intanto il giro di tutti gli altri primo sarà Albon l'ultimo sarà Joe quindi Albon è proprio quello che è il primo ad essere nella zona eliminazioni poi c'è Fett e Zunata fine la sessione ok pensavo che fosse una bagliera gialla sarebbe stato ottimo per noi perché gli altri non si sarebbero migliorati vediamo un attimo c'è Alonso il primo scusa Albon dove è finito vabbè Alonso va a tagliare il traguardo ok 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 Fett e taglia il traguardo non si migliora Zunata non si migliora vediamo se Norris va a migliorarsi Albon ah è il penultimo se avete che c'è qualche problema bandiera già nel settore 1 Ricciardo Norris si migliora stiamo al filo vediamo se Albon si migliora incidente addirittura se Albon non si migliora siamo salvi non si migliora per 57 millesimi riusciamo a portare addirittura entrambi i piloti in Q2 con Kevin addirittura in settima posizione non male peccato la penalità però insomma comunque sia più riusciamo a salire e magari meno poi posizioni perdiamo sulla griglia e Mick ha 13 posizioni insomma quindi pure lui sta abbastanza impicciato allora andiamo in qualifica 2 ragazzi vedendo le prove io non ci avrei speso un euro sinceramente per questo piazzamento che insomma è stata un che aveva fatto veramente un buon giro allora abbiamo una sola gomma rossa per entrambi nuova ovviamente e aspetterei farei un unico tentativo ragazzi velocizziamo un po' la faccenda lo facciamo fare entrambi quando stiamo qui nella zona calante del traffico per forza altrimenti giusto per sfruttare questa gomma nuova sfruttarla fino in fondo allora intanto facciamoli uscire che ci siamo torno in pista ok aspettiamo un pochettino torna in pista anche schumacher quindi sono entrambi nella zona in cui non dovrebbe praticamente esserci nessuno in pista ok dai vediamo un pochettino intanto stanno nel primo settore andiamo giù adesso alla staccata che porta al rettilineo qua sarà molto importante in gara ad averci il DRS e la sci insomma è comunque un ottimo punto di sorpasso quindi sarà assolutamente cruciale uscire bene come trazione dalla penultima curva e poi riuscire a sfruttare appunto il rettilineo per i sorpassi intanto vediamo di riuscire a piazzarci bene insomma ma se 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 Kevin riuscisse a rifare lo stesso tempo di prima non sarebbe male comunque inizia ora il suo tentativo con dietro abbiamo Mick li seguiamo entrambi così vediamo si Mick sta per fare la penultima curva vediamo un pochettino il primo settore di Kevin mi ricordo solo il settore centrale che era 37 no perché perché è dovuto rovinare tutto così mannaggia la miseria niente è proprio partita è parecchio tempo porca trota la squadra è parecchio delusa porca trota rientra e niente spostiamoci su Mick che comunque c'ha il settore giallo quindi ha dovuto allargare cioè ha dovuto alzare il piede dannazione vabbè vediamo se intanto lo riesce a finire non so se Kevin riescerà a farne un altro in verità ci voleva assolutamente non ci voleva assolutamente peccato perché eravamo eravamo solo noi in pista quindi allora facciamolo rientrare subito Kevin credo di sì se rientra come ultimo praticamente vediamo Mick che va a terminare il giro mazza 38 e 9 il settore centrale veramente alto il tempo comunque termina in undicesima posizione riconfigura e niente devi riutilizzare le stesse gomme frate allora un attimino questi stanno riuscendo si stanno uscendo subito torna in pista dai 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 pelo meno andiamo in pista dopo le le due redbull dovremmo forse forse non avere nessuno davanti quindi deve assolutamente fare un tempo Mick purtroppo per 10 millesimi fuori da chi passa in cut per il momento ovviamente Alonso è appunto a 10 millesimi e sicuramente magari Joe Ricciardo Norris potrebbero migliorarsi vediamo un attimo dai allora andiamo a seguirci on board Kevin sperando che non faccia errori a sto giro velocizziamo un pochetto Mick intanto è rientrato in box ok seguiamo Kevin on board e vediamo un attimo dai di nuovo snake iniziale purtroppo gomme ormai usurate ma solo queste ci abbiamo sembra che sia andato bene per il momento vediamo il primo settore però non ricordo la il suo il suo settore 25 7 quanto pare quanto pare sì inferiore rispetto a al giro precedente menù da giallo 38 7 il settore centrale in linea invece con il tempo che fece nella prima sessione di qualifiche vediamo un po' come va a terminare terminare in sesta posizione peccato il settore centrale cioè il primo settore quel giallo non ci voleva magari qualcosina oddio ci abbiamo vabbè ci abbiamo un decimo e sei da emilton non così lontano però insomma non so quanto saremmo riusciti a migliorare comunque occhio sugli altri piloti che stanno migliorando tutti e stiamo comunque fuori stanno migliorando probabilmente tutti purtroppo purtroppo è così quindi entrambi fuori dalla cutra ci sta però peccato per il primo tentativo di Kevin perché il primo settore poi nel successivo giro ha fatto intermedio giallo quindi non è andato addirittura a migliorarsi nel suo tempo però va bene dai alla fine shomage comunque parte in fondo al gruppo visto che abbiamo penalità e Kevin non mi ricordo se c'era 5 o 10 di posizione ma sa 5 beh insomma ho un sacco di penalità che puoi sfruttare se si manterrà su questo livello potrà fare un'ottima gara in cielo si addensano nubi minacciose è molto probabile che i team debbano vedersela con la pioggia speriamo di no il metodo non dava pioggia quindi cerchiamo di non fare non fa scherzi per quanto magari la voglia potrebbe addirittura aiutarci però in qualifica non siamo andati male insomma ci abbiamo avuto un buono spunto allora andiamoci a vedere un attimo la strategia allora quindi alla fine dei conti alla fine Kevin parte addirittura dietro dietro Mick quanti punti penna di tagli hanno dato a Kevin scusate Mick c'era a 13 e vabbè alla fine Kevin parte 19 e Mick 17 vabbè ok avranno avranno ragione loro allora e niente ovviamente gara del socio dobbiamo fare anche se comunque ci dà ugualmente due due soste credo che la pista vada a consumare pure troppo le le gomme allora vediamo un attimo lui ci dà gialla gialla a parte che gialla gialla noi ce l'abbiamo già le nuove mica mi ricordo mi sa di sì però mi sa di sì perché volendo partire eventualmente con la bianca allora facciamo una strategia come hanno fatto loro però magari mettiamo la bianca come primo stint e la gialla che ovviamente possiamo mettere più lontano ma manco tantissimo in verità diciamo un ventitresimo giro e poi un'altra bianca un'altra gialla scusate da piazza un'altra gialla la selezione magari è meglio il problema è che andiamo un po' impicciati dobbiamo magari allungare un po' lo stint della bianca diciamo tipo così 23 ventiquattresimo giro con la bianca vuol dire che non dobbiamo praticamente sforzarla quasi per niente sperando ovviamente sempre in qualche safety car o qualcosa che possa andare poi a far durare un po' di più la vita delle nostre gomme quindi bianca giolla giolla proviamo così perché di rossa comunque non avrebbe senso e dell'altra bianca non ce l'abbiamo quindi proviamo questa alternativa le altre non sono più veloci quindi proviamo questa e per Kevin mi ha dato praticamente la stessa però volendo lui potremmo fare eventualmente questa perché Kevin voglio cercare di essere un po' più aggressivo visto che insomma di solito in gara se non fa errori ovviamente è abbastanza competitivo quindi magari con lui potremmo modificare così il problema è che qui arriviamo a fine gara con un po' troppo poca gomma magari riuscissimo tipo così vorrei proprio arrivare altrimenti facciamo una cosa alternativa mettiamo la bianca nella parte centrale che c'era già mi pare tra le sì questa qui la bianca nella parte centrale e poi terminiamo con una giolla magari un po' più aggressiva questo potrebbe potrebbe andare bene mettiamo la bianca già al diciottesimo giro torno insomma al diciottesimo giro e poi arriviamo fino quasi in fondo insomma sì dai potrebbe per Kevin potrebbe andare una strategia un po' un po' differente va bene dai prendiamoci questa sperando che che paghi a lunga andare mentre Mick faremo un po' il il contrario allora quanto riguarda invece la benzina mettiamo sempre un paio di giri visto che insomma suzuka siamo arrivati senza benzina con Mick praticamente e niente andiamo in gara ragazzi mentre i piloti prendono posizione in pista nel cielo si può vedere qualche nuvola sì ma niente di che partirà dalla parte bassa dello schieramento e dovrà darsi da fare per conquistare il podio a seguire Kevin Magnussen se vuole risalire dalle ultime dieci posizioni servirà un piccolo miracolo eh speriamo dai davvero pochissimo dai dai cerchiamo di far bene ragazzi allora si accendono le luci 3 4 5 lo spegnimento il via del Gran Premio di America si spengono le luci e parte 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 andiamo un pochettino on board io farei intanto dire a Mick di non ostacolare il compagno attenzione c'è una Ferrari di tour che partiva ancora dietro di noi Kevin è rimasto un attimino impicciato vediamo un po' se riusciamo a superare Albon intanto andiamo a mettere al massimo la benzina detto a Schemacher di non ostacolare il compagno però speravo che riuscisse a guadagnare qualche posizione che è vinto mentre è rimasto un bottigliato qua attenzione Albon comunque ha le gomme rosse vediamo un po' come sono partiti gli altri tutti con le gialle alcune rosse e anche Albon quindi forse anche loro faranno gialla bianca gialla o gialla gialla bianca non lo so vedremo ovviamente o magari una rossa sul finale così a caso allora vediamo un attimino Kevin lo vedo un po' più conservativo in verità non so perché ma lo vedo conservativo vediamo Mick qui invece nel primo settore per il momento sì ovviamente Mick ha una gomma bianca quindi è quello un pochettino più penalizzato mentre Kevin sta affaticando un po' tanto in verità speravo potesse essere un po' più aggressivo magari andiamo in modalità sorpasso dobbiamo cercare per lo meno di risalire un pochettino la china perché insomma fanarini di quota proprio non è il massimo DRS attiva ok dovrebbe essere non so se c'è anche il sorrettilineo dei box in verità non mi ricordo sicuro il sorrettilineo quello del del secondo settore ma quello dei box non mi ricordo dai Kevin vediamo un po' se riusciamo perlomeno con il DRS a sorpassare Albon e c'è ancora un ostacolare compagno togliamolo perché avviene mi sembra niente niente di che ha pure sbagliato la staccata Kevin vediamo un attimo con il DRS così vediamo anche le varie differenze che hanno fatto oddio Kevin come sembrava andasse lunghissimo parlavo di differenze che hanno fatto con l'ultima patch ma ovviamente non potendo mettere a confronto è relativo insomma però mi sembra che si faccia un fino più fatica ora con con il DRS a sorpassare prima praticamente la privetta sverniciavano come se ci fosse domani si si apre anche sulla corsia box niente praticamente non riusciamo ma anche con la modella da sorpasso a sopravversare sarà che siamo troppo troppo carichi non lo so non lo so andiamo un attimo di sorpasso anche con Schumacher siamo abbastanza rimasti stazionati stazionari in questa posizione vediamo un attimo ora Schumacher si accosta a zunata e prendiamo la posizione tensione però a zunata all'interno che diventa poi esterna e interna nuovamente per noi e forse la guadagniamo attenzione lasciamo spazio pezzonata che non ci sta attenzione nuovamente è blocchiata scima che fa la frittata ovviamente ovviamente scima che fa la frittata nuovamente nuovamente è blocchiata in ultima curva è andata a temporare albato nas battuto al muro da safety car credo nonnazione safety car infatti purtroppo Mose deve fare pure tutto il giro così mammaggio la miseria safety car in pista safety car safety car vabbè lui deve entrare perché non so conflitto strategico mica la stiamo cambiando componente alettone anteriore e no non devi assolutamente cambiare gomma che te cambi cambia solo l'alettone via non ce l'abbiamo un'altra bianca che succede scusi che si sono toccati vabbè prima questo mi sembra se fossero presi mentre stava a safety car che cazzo è possibile poi mi dà 5 secondi per farsi peccato peccato inizia di nuovo in salita la nostra gara ma mi sa che ci finirà comunque in salita perché non abbiamo assolutamente il passo degli altri purtroppo la tiffi ha dovuto lasciare la gara e Kevin guadagna una posizione ma insomma vorrei evitare di provocarle io le safety car purtroppo e lui comunque non mi cambia la gomma ovviamente non può atteneare la stessa gomma cambia strategia andiamo sulla cazzo andiamo la bianca l'avemmo tenuto solo questo ma io non voglio cambiare gomma c'è una roba di che non voglio cambiare gomma dannazione voglio tenermi la bianca abbiamo fatto tre giri già la devo cambiare se no è un casino allora ce l'ho un attimo nella cosa perché devono ancora arrivare a assicurare la safety car allora vediamo un attimo per io dovrebbero solo cambiarci solo l'alettone ok ci sono ovviamente 5 secondi di penita dai cambia l'alettone e via vai l'alettone che compare da nulla ok gomme bianche che rimangono perlomeno la strategia rimane invariata perché non sapevo che fa altrimenti fai gialla gialla ma poi alla fine non ce l'hai la bianca per arrivare in fondo la rossa non ce la riferesti mai e rimani comunque un po' impicciato che danni abbiamo sicuramente la scocca infatti derai il telaio va bene dai purtroppo andiamo al conservativo qua gara inserita per noi ma mica se deve riaccodare ah no che cazzo la softigara addirittura in questo giro è rimasta magari due giri rispetto all'altra volta e niente devi dico che devi piottare ma poco ci manca a Mick sennò rimani troppo indietro andiamo su al massimo eh si aumenta la propria ritmo perché ti devi avvicinare guarda Kevin che cerca di affiancarsi subito ok attenzione si apre un avventaglio ma prima della linea del traguardo non si può passare e via Mick sta un po' indietro vabbè manco tanto attenzione qua Kevin di nuovo modalità sorpasso dobbiamo cercare di passare Albo anche comunque ha le gomme rosse quindi potrebbe avere addirittura un miglior passo visto che noi siamo da riparti semplicemente nel giro di qualifiche e basta non ho visto il setup a che percentuale è aumentato o se era diminuito perché comunque non avevamo terminato tutti i progressi nelle prove e non sapevamo se effettivamente era buono o meno insomma quindi sicuramente dopo le qualifiche era avremmo avuto comunque una percentuale ecco però va bene anche così dai allora cerchiamo di di passare Albo Hamilton in box attenzione subito soste box per lui chissà perché forse cambi di strategia no un drive-thru ha avuto non so che cazzo ha fatto è passato così vabbè non lo so Hamilton in box e seguiamo comunque Kevin che è molta difficoltà a tenere il passo cioè lo teniamo ma abbiamo addirittura pure la modalità a sorpasso che non sembra andar bene perdiamo nella curva di di entrata del rettilineo e in in trazione vediamo un po' qua nel settore centrale che riusciamo a farci un po' sotto in questa serie di curve un po' lente ma arrivata anche con la modalità a sorpasso purtroppo non siamo assolutamente in grado cosa succede DRS attiva adesso mettiamo un attimo neutro perché qua stiamo consumando veramente tanto tanto hertz è arrivato sotto Schumacher che comunque aveva un po' di distacco da noi e si è arrivato quasi sotto è a 7 decimi quindi Kevin c'ha qualche problema o con la gialla che non va assolutamente come dovrebbe vediamo un po' se riusciamo a passare qui ora sul rettilino sfruttando il DRS magari andiamo siamo in scia vediamo qui in staccata proviamo non a lungo ma Alba ci tira anche lui la staccata e rimane davanti Mick per il momento osserva quello che succede che dei danni ha già fatti si arriva a lungo e ci piglia pure a noi è finita facciamo un strike con entrambi i piroti veramente proprio da licenziarli allora iniziano le prime soste penso per i piloti che hanno montato la gomma rossa quindi Russell con Albon quindi entrambi stanno entrando in box vediamo un po' si infatti gomma bianca per lui no gomma gialla scusate tutti gomma gialla se avete bianca ma è Mick quindi guadagniamo qualche posizione ma non per nostro merito insomma perché si sono fermati gli altri vediamo un po' se riusciamo adesso a riprenderci un po' la posizione cerchiamo tutta la scia ma ci manca qualcosina soluzionata che chiude bene la porta e ci lascia fuori bantieri la posizione ovviamente abbiamo anche le due Aston Martin davanti che sono in lotta e poi gli altri un po' più distaccati in quanto Vettel ha due secondi da Norris che è un po' più distante di nuovo DRS non ce la facciamo qui un azzardo di attacco ma niente da fare per il momento tengo Mick dietro in attesa è inutile che lo facciamo attaccare non so neanche se effettivamente ha o meno la possibilità di riuscirci quindi per il momento rimane lì tanto al 73% poi le bianche va comunque più lungo di strategia rispetto a Kevin che ha come strategia il diciottesimo giro grosso modo insomma quindi mentre Mick va aspetta Mick è quasi fanculata la la strategia fuori dei premi gialla verde gialla è successo un casino e allora rimettiamo sì la gialla la bianca penso che può andare bene fino a qua e dopo altra gialla fino alla alla fine direi quindi questa volendo possiamo pure fermarci magari qua così magari anticipiamo un po' la sostacola bianca dai ok vai tieni questa questo per averci un'idea se no era sartata era un casino allora vediamo Kevin se riesce adesso attentato all'interno ma non c'è non c'è riuscito dovremmo cercare magari di di avere un po' più di hertz per sfruttare che ne so la modalità potenza o sorpasso ma alla fine siamo qui dietro non abbiamo assolutamente assolutamente ritmo è un po' quello che abbiamo visto anche nelle prove libere il giro ci è solo venuto con le rosse in qualifica sfruttando il mondo ma in gara assolutamente non abbiamo ritmo di nuovo ci proviamo ancora col drs ma zionata protegge la porta e non riusciamo a passare intanto si è accodato Hamilton che ha 7 secondi di svantaggio vediamo un po' si ha più ritmo per sopravvanzare anche Schumacher attenzione alcuni che vanno dentro Kevin si fa vedere ma non è convinto mentre dietro Schumacher si deve parare le spalle da Hamilton che sta arrivando abbastanza rembante andiamo in modalità difesa che DRS ce l'abbiamo pure tanto accumulato cerchiamo di riuscire a difenderci anche se Hamilton col drs quasi un rettilino sarà molto molto minaccioso però ce l'abbiamo anche noi perché stiamo attaccati a Kevin quindi forse forse riusciamo a difenderci vediamo si ok si è fatto un trenino abbastanza interessante il problema è che noi non abbiamo assolutamente nessun tipo di di ritmo cioè veramente stiamo facendo molta molta fatica nelle altre gare abbiamo sempre qualcosina in più anche per fare i vari sorpassi eccetera però qui proprio non ce la facciamo teniamo ancora modalità difesa su Schumacher e quella normale su Kevin stiamo cercando in tutti i modi di avanzare su Nata vediamo un po' come stanno come gomme più o meno simili anzi Kevin sta al 52% quindi un po' più consumate ma insomma ci fermeremo penso più o meno tutti allo stesso allo stesso giro attenzione qui ci apriamo al ventaglio Kevin cerca di infilare l'alettone anteriore davanti alle ruote di Zunata Verstappen e Box intanto il primo a fermarsi con la gomma gialla forse tenta un un undercut su Leclerc sempre entra la finestra di Box va bene attenzione qua c'è sempre Hamilton molto minucioso bagnera gialla settore 1 che va via subito Hamilton che ci ha provato ad infilarsi Gasly che va largo ma è comunque davanti a noi e non ci non ci dà nessun tipo di vantaggio questo è fatto un bel trenino capitanato da da Fettel che è in undicesima posizione che sta un po' dico rallentando perché penso che Zunata ne abbia un po' di più si infila azionata la staccata del retilino ma Fettel non ci sta attenzione qui intanto si è rifatto sotto anche Russell che avevano fatto la sosta quindi siamo andati veramente veramente lenti per farci riprendere stanno entrando in box un po' tutti quanti ora con le gomme gialle chi prima chi dopo tenta di entrare tutti però di dietro di noi invece si sono già belli che fermati quindi dovremmo cercare ora in questo momento di dare il massimo scusate e cercare di guadagnare il più possibile con Schumacher che ovviamente finirà un pochettino più lungo rispetto a Kevin il problema è che se facciamo ad entrare Kevin Schumacher perde il DRS e quindi è tutto un casino facciamo fare un altro giro a Kevin magari anche se sta al 44% dovremmo cercare no cerchiamo l'undercut anche noi lo facciamo entrare subito gomma bianca per lui vediamo se anche Zionata entra o meno ci stiamo attaccati stiamo attaccati no Kevin e Box Zionata non rientra ovviamente passiamo scaliamo un sacco di posizioni siamo proprio gli ultimi noi ok gomma bianca usciamo 3 secondi e 2 alla sosta quindi è abbastanza veloce ok usciamo ultimi praticamente bene ha proprio pagato sta sta cosa sta strategia intanto Schumacher è sempre attaccato a Zionata attenzione qui col DRS perché Zionata non ce l'ha ci scartiamo all'interno e ci prendiamo la posizione attenzione anche Hamilton che non vuole star dire a Zionata e sta lottando anche lui prende anche lui la posizione attenzione con Hamilton forse cattivo perché sa che comunque si sta giocando la posizione con gli altri sta entrando ad riassozionare intanto pure Ricciardo Hamilton intanto col DRS ci svernigia all'interno in staccato di curva 1 siamo per il momento in quinta posizione con Schumacher andiamo sul nervo di Erzo e tanto Kevin in lotta con Vettel non so se è appena uscito dalla corsia box no non si è superato Vettel credo di no perché eravamo noi ultimi quindi forse si comunque per il momento diciassettesimo andiamo a vedere davanti qua stanno risalendo su praticamente tutti abbiamo dietro Russell con Sainz tutti quelli che si sono fermati e ci sono quindi quelli che hanno rimontato gomma gialla quindi fanno gialla gialla e bianca mentre Norris Ricciardo Kevin e Zunara siamo con la gomma bianca quindi monteremo la gialla nella parte conclusiva della della pista della della gara insomma occhi sempre qui su Mick dietro intanto stanno scambiando le posizioni c'è Alonso c'è Sainz c'è Ocon insomma stanno tutti lì stiamo facendo un po' la tappo in verità purtroppo Hamilton dopo il sorpasso ci ha abbandonato vediamo Russell ora col DRS non è così incisivo e quindi per il momento rimaniamo dietro lo facciamo rimanere attenzione settore giallo settore 3 bandiera gialla ho visto mi pare una Ferrari che mi è sembrato che avesse infatti bloccato quindi Sainz commette un errore attenzione qua settore 3 ancora bandiera gialla per un attimo che va via subito sono tutti dietro strolla addirittura attenzione si stiamo facendo da tappo lo so però stiamo facendo anche la nostra gara Mick deve resistere ancora un po' deve resistere meno un giro che ci passeranno praticamente tutti una volta che ci fermiamo però insomma cerchiamo di guadagnare il più possibile dai 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 Mick protegge l'interno Russell prova all'esterno attenzione Ocon anzi Alonso cattivissimo su Ocon gli tira la staccata e sembra prendere la posizione attenzione fiacca a fianco ancora i due piloti della 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 Fatauri intanto Kevin passa stroll piano piano si sta riavvicinando si 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 stiamo nella strategia corretta noi non abbiamo Herz con Schumacher e Russell all'interno in curva uno ci passa Russell ci passa prende la posizione inizia subito a scappar via se riuscissimo a tenerci nel secondo di di stacco non sarebbe male per via del DRS poi nel rettilineo 8 decimi quindi si abbiamo il DRS dobbiamo fare intrarresso Schumacher 45% sta sta lottando e non poco con queste gomme però ci sarebbe da fare un altro giro per sta proprio non dico sicuri però insomma ci passerebbero in mille praticamente ci passano tipo sette macchine attenzione qui ancora adesso con che si fa minaccioso col DRS attenzione addirittura Alunzo all'esterno tentano di passarci entrambi passa semplicemente solo con ma poi Alunzo si infila anche all'interno grande sorpasso stiamo perdendo tempo dobbiamo fermarci assolutamente in questo giro quindi gomma gialla e via stiamo cercando veramente di dare tutto per tutto spremi queste gomme vai all'attacco tensione quasi una tamponata dietro da casli ora col DRS forse possiamo difenderci un pochetto cerchiamo di dare tutto per tutto con queste gomme ci passeranno altri quanti so dietro due quattro cinque sei macchine tipo ora che faremo la sosta ai box ok mic ai box vediamo un attimo kevin che abbiamo lasciato un po' assi era comunque quasi arrivato attenzione è alle spalle di ricciardo a due secondi però sta arrivando piano piano una buona gara per lui per il momento mic purtroppo esce anche lui in ultima posizione abbiamo aspetta rimetta a posto il ritmo magari standard e via così quindi concentriamoci un attimo adesso su kevin che è praticamente sta quasi riattaccando a questo mega trenino che possiamo vedere sulla mappa capitanato da russell quindi so veramente un sacco di piloti uno dietro l'altro sarebbe interessante se riuscissimo ad avvicinarli anche perché loro sono quasi prossimi quasi insomma ci avranno forse un'altra decina di giri forse alla sosta ai box parte russell sta al 54 che è stato uno dei primi a montare le gomme gialle così come emilton infatti emilton al 45% quindi vediamo insomma intanto siamo a 1.6 da ricciardo piano piano stiamo comunque rosicchiando qualcosina riuscissimo ad entrare nel zona di rs non sarebbe male perché ricciardo poi avendoci quello c'ha il di rs grazie a norris ovviamente nel tratto centrale riguadagna qualcosina quindi purtroppo andiamo a perdere un po' quello che abbiamo invece guadagnato noi nel primo e nel terzo settore ma siamo lì è un secondo e due li vediamo qua davanti ora nove decimi riuscissimo a stare sotto al secondo già nel rettilineo dei box potremmo avere il drs vediamo un po' dovrebbe essere sotto sì però forse eravamo sopra al secondo nella linea di detection point quindi per il momento ancora niente siamo ancora qui a lottare settore uno lo snake ricordiamo l'errore effetto da Kevin nel primo giro di q2 che c'è forse costato il passaggio in q3 non lo sapremo mai però insomma non avevamo un decimo da da dover portare giù allora intanto siamo arrivati in zona drs siamo molto molto tensione cattivi decisi dovremmo cercare di passarli perché ci stanno ostacolando un pochetto cerchiamo magari di arrivare un po' in accumulo qua in vista che ora ne stiamo comunque sfruttando il drs schumacher dietro è a 8 decimi da zunata 6 decimi adesso quindi piano piano sta arrivando anche lui e quindi a zona drs noi per il momento rimaniamo un attimo dietro sto appunto accumulando un po' di di hertz da poter poi sfruttare eventualmente per il sorpasso e schumacher passa azionata grandissima non ci pensa due volte ora davanti di nuovo gli due aston martin da passare c'è stroll e poco più avanti vettel vediamolo un attimo qui su rettilino aprilara subito stroll si protegge all'interno e schumacher tenta la staccata ma poi deve desistere memore dell'errore fatto in precedenza qui l'hertz direi che è bello che carico adesso 61% non è tantissimo però insomma ok adesso sì che stiamo in staccata vai andiamo sul neutro cerchiamo di riavvicinarci perché stiamo perdendo un po' ricciardo cioè norris a due secondi e quattro da giù stiamo stiamo perdendo un po' di tempo mentre schumacher è ancora dietro a stroll andiamo un po' modalità sorpasso se grazie anche al drs e al punto modalità sorpasso riusciamo a passare stroll che purtroppo c'ha il drs grazie a fettel però vediamo un attimo qui riproviamo ancora all'esterno cerchiamo di infilarci ma non ce la facciamo e quindi per il momento ancora ancora niente rimetti neutro che ha prosciugato già il l'herz vediamo qua davanti attenzione se avrà un avventaglio vediamo se magnus riesce ad infilarsi in curva uno non ce la fa andiamo un attimino a tenerci così poi eventualmente switchiamo su potenza sul rettilineo attenzione qua sempre dietro norris ricciardo ha guadagnato qualcosina andiamo su potenza adesso per quest'ultima parte del giro vediamo magari se riusciamo a farci un sorpassio qui niente norris si riavvicina ricciardo grazie al 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 drs però ricciardo ha preso la posizione su norris perché la norris prima due secondi da giù mentre ora siamo a 1 e 3 1 e 4 quindi si vede che il gruppetto là davanti sta un po' rallentando vediamo ancora se riusciamo con kevin no ci manca qualcosina per poter per poter passare attenzione qua ci proviamo nel settore 1 affiancati attenzione purtroppo però poi è ricciardo ad avere il favorito traiettore qui interna dobbiamo forse alzare un po' il piede ci proviamo ancora l'esterno in staccata attenzione non molla kevin ora di nuovo fianco a fianco entrambi con il DRS ma guadagniamo la posizione ora dobbiamo cercare di difendercela però grande lotta di kevin fianco a fianco a ricciardo a norris nel primo settore zona anche molto molto difficile per via di tutta la serie di curve in successione ma siamo riusciti a a prenderci la posizione mancato le gomme bianche intanto arrivano i secondi pit stop arriva Hamilton con Hamilton è stato uno dei primi a cambiare le gomme anche Albon insomma si è fermato noi però siamo affiancati a Ricciardo ci riproviamo come come con Norris attenzione kevin ormai ci ha preso gusto a sorpassarli così nel primo settore forse siamo un po' avanti in staccata attenzione qui ora con il DRS forse abbiamo una migliore trazione riusciamo a guadagnarci la posizione anche su Ricciardo che stanno un po' affaticando anzi Ricciardo a parità di gomme o no si ah pure Norris aveva le bianche quindi ottimo che siamo riusciti a passarli ottimo così perché a parità di gomme se no avremmo perso veramente un casino di tempo quindi buono così siamo per il momento in decima posizione ora stiamo alla caccia di Joe che già inizia a farsi a difendersi anche se sta cercando anche lui di passare Gasly davanti quindi una lotta a tre noi cerchiamo per il momento di stare a guardare vediamo un po' come si va ad evolvere la situazione andiamo un attimo sul sorpasso qui con sorpasso a Schumacher purtroppo che ho con che gomme c'ha come bianche però nuove quindi starà spingendo e non poco andiamo a vedere un attimo Kevin qui che sta impicciato con Joe e Gasly che hanno gomma gialla quindi dovrebbero fermarsi a breve stanno fermando infatti tutti gli altri Sainz Alonso Rasser si ferma Gasly sta cosa che vanno prima in fondo e poi vanno sopra è un casino non si capisce mai i nomi che vanno prima giù e poi risalgo comunque guadagniamo la quinta posizione Sainz era appena rientrato il box è riuscito e ora abbiamo Joe nel mirino prima c'avevamo Schumacher davanti ora c'abbiamo Kevin davanti dovremo cercare pure di mantenere questa posizione perché poi a una certa i pit stop finiranno quindi ributtiamoci su neutro qui di nuovo all'esterno ci prendiamo la la posizione su Joe grande Kevin dai dai stiamo facendo un'ottima un'ottima gara vediamo Mick purtroppo che è rimasto un po' imbottigliato qua in quattordicesima posizione è stato cioè quello che ha pagato di più a quanto pare comunque la nostra vettura va molto meglio con le gomme bianche ma purtroppo non ce l'avevamo due sennò avrei fatto già la bianca bianca assolutamente l'abbiamo usata nelle prove libere quindi non possiamo avercela nuova non so se per assurdo no mancomicca c'è la nuova sennò veramente l'avrei fatta un'altra bianca con Mick nel finale attenzione qua però arriva Hamilton di gran carriera anche Sainz provano il sorpasso all'esterno noi cerchiamo di difenderci quanto possibile ma purtroppo poi dobbiamo lasciare strada ai due avversari quindi siamo in sesta posizione vediamo il 50% di comb la nostra sosta in box è ancora lontana con entrambi i piloti attenzione bandiera gialla per il momento Schumacher sta perdendo un po' di posizione ancora Norris problemi in curva 19 Schumacher sta facendo molta molta fatica in verità quelli con la gomma bianca vanno decisamente più più forti infatti Kevin sta andando molto forte anche se il consumo è un pochettino più inferiore rispetto alle aspettative visto sti sorpassi insomma quindi stiamo cercando di stiamo consumando un po' più di gomma rispetto al quanto preventivato non so se perché ci siamo fermati un filino prima rispetto a quando è oppure no vabbè cerchiamo di arrivare fino in fondo comunque per il momento abbiamo un secondo e mezzo da Ricciardo scusate mentre science e mezzo ormai hanno staccato tutto tutto il resto del gruppetto e sono a tre secondi da 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 vagnus n quindi per il momento è una fase di stallo per noi dobbiamo rimettere un attimo equilibrata perché abbiamo addirittura finito tutta la benzina che aveva in eccesso ci vorrebbe una safety car così potremmo fare la sosta pagando il meno possibile quantità di tempo e si mi riavvicinerebbe tutti ovviamente però insomma magari possiamo difenderci bene e allora mic poi monteremo di nuovo le gialle perché le gialle secondo me non pagano purtroppo con sta macchina per noi quindi stiamo veramente faticando tanto ora arriva anche Joe a sorpassare schmacker schmacker comunque ricordiamo i danni per via dell'errore che ha fatto quindi macchina decisamente non al top però insomma all'inizio non stavamo andando male con la gomma bianca con la gialla veramente non non ci sta non va la macchina allora andiamo a vedere qua davanti ricciardo 1,7 1,5 1,7 quindi addirittura quasi quasi lo riusciamo a guadagnare un po' di 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 l'altro ricciardo c'è le stesse come le nostre e le nostre purtroppo sono un po' più consumate quindi andremo a fermarci prima di ricciardo intanto Joe ha preso la posizione su schemacher che sta veramente fatica grande non poco in verità ma dobbiamo aspettare ancora un po' perché si anticipiamo sempre poi arriviamo con le gomme a fine gara veramente distrutte quindi dobbiamo stringere un po' i denti e cercare di arrivare precisi con con i varie con le varie soste dai dai intanto ancora Kevin in sesta posizione ripeto ricciardo piano piano sta lì 1.7 1.5 insomma di stacco più o meno rimane invariato non è ancora zona di cambio gomme per Kevin deve ancora fare un po' cioè dovremmo entrare adesso ma insomma qualche altro giro assolutamente dovremmo farcelo purtroppo ripeto io non so cioè con Kevin sicuro no però mi pare che con Schumacher no manco con Schumacher abbiamo una bianca nuova perché nel Q2 la prima cosa che ho fatto è una bianca con appunto tutti i giri per poterlo tenere fuori il più possibile quindi non abbiamo una doppia bianca nuova se no sarebbe stato ottimo montare bianca bianca visto appunto quanto sta andando forte la la macchina insomma con con questa gomma allora tutti hanno appunto la la bianca arriveranno penso a fine cara mancano 17 giri si questa c'è 180 e passa per 100 si Norris e box intanto quindi pure Ricciardo sicuramente si fermerà Norris monterà ovviamente gomma gialla va bene aspettiamo così allora siamo con entrambi nella zona soste direi di far fermare magari prima Kevin cioè prima Schumacher che sta un po' più impicciato in verità con le gomme e attenzione che sta arrivando Alunso di Gran Carriera ha già superato Ricciardo sta veramente volando con le gomme bianche nuove quindi si deve rimane un attimo un altro giro fuori Kevin mentre fermiamo Mick si infatti non ci abbiamo comunque nessuna gomma bianca nuova purtroppo quindi Mick entra in questo giro gomma gialla nuova per lui e Kevin lo facciamo entrare nel prossimo giro anzi prepariamocela subito azioni box anche lui ovviamente niente bianca nuova box in questo giro e devi spingere sei aggressivo e devi veramente spingere intanto Mick esce dai box in diciottesima posizione qua davanti alla lot albol stroll vediamo se riusciamo a guadagnarci qualche cosa visto che comunque abbiamo gomma gialla più fresca dovremmo essere un po' più competitivi tanto Alonso ha raggiunto Kevin ma noi ci stiamo per fermare quindi sto veramente cercando di spremere il tutto di queste gomme via via poi ci passeranno tutti gli altri tutti quelli che hanno già fatto la loro sosta ai box ora vediamo Kevin sperando che vada tutto per il meglio entra anche Ricciardo che aveva le stesse gomme più o meno la stessa percentuale nostra usciamo abbastanza bene per fortuna davanti a Ricciardo quindi buona buona sosta per noi in dodicesima posizione usciamo e vai su standard e ora vediamo un po' Kevin con con le gialle che insomma avevamo pure montato le stesse nel nel primo stint ma tra una cosa e l'altra non andrà bene intanto Mick per fortuna ha preso posizione su stroll mettiamo nel mirino anche Albon e mentre Kevin purtroppo è a 9 secondi da giù vediamo un attimo cosa stanno messi queste gomme questi stanno al 76% mancano più di 10 giri e penso che comunque non faranno soste loro assolutamente non faranno non faranno sosta vediamo se siamo magari un po' più veloci noi non è detto quindi per il momento 9 secondi e 2 su gio ma 9 secondi sono tanti insomma da recuperare però vediamo dai abbiamo comunque una gomma gialla più fresca la macchina piano piano si inizia a scaricare di benzina quindi è più leggera e magari si inizia ad essere anche un po' più guidata per i nostri piloti che veramente hanno fatto molta fatica se non con le gomme bianche con le gomme bianche la macchina andava bene su questo secondo me è innegabile però poi una volta cambiate le giolle veramente niente l'avevamo visto poi nelle varie prove che abbiamo fatto nelle prove libere che la giolla non andava assolutamente non era la gomma per noi per quanto pure la bianca in verità l'abbiamo usata sì nei long run per vedere il setup però insomma anche là non mi sembrava niente di che però prove libere magari c'è chi usa la rossa chi usa la gialla chi la bianca eccetera il vero potenziale della gomma non lo si conosce finché non si è in gara e magari tutti con la stessa componente allora lì si vede effettivamente chi ha lavorato meglio Schumacher intatto passa pure Albon grande sta andando bene e a 12 secondi e 3 da Norris quindi già molto più più distante speriamo in una safety car una virtual safety car qualcosa che ci permetta magari di accorciare la la classifica e certo darebbe un pit stop free a tutti gli altri però se vogliono corrersi questo rischio noi le brutte con me non le cambiamo e vediamo poi di giocarci alla fine per il resto dobbiamo solo attendere purtroppo non siamo riusciti a fare di meglio per il momento stiamo a 6 secondi da gioco comunque 6 secondi a 7 erano 9 mi pare prima quindi insomma perché stanno comunque passando mancano 11 giri sta arrivando penso che sta appena a doppiarci ho visto una Red Bull che si sta avvicinando veramente di gran carriera non credo sia Perez quindi è sicuramente Verstappen 6 secondi e 100 da giù dobbiamo semplicemente attendere e Mick vai un attimino di Michelle la grassa 5 e 8 dai 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 che forse forse se Kevin riesce a tenere sto ritmo prima della fine della gara gli stiamo dietro oggi 5 e 5 5 e 4 dai 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 mancano 10 giri quindi se prosegui così da qui in poi ovviamente pure la conma nostra andrà a perdere un po' di freschezza e avrà del degato però anche la loro poi aumenterà ancora di più quindi loro sono già 65 62 sono abbastanza al limite se la portano veramente al limite poi vediamo di giocarcela veramente nel finale per qualche punticino che sarebbe già ottimo visto come sono partite le le cose all'inizio della gara il problema è che non possiamo far stecchiare in cui stiamo impicciati e così tanto in difficoltà più che altro perché stiamo lottando con l'Alfa Romeo per la sosta posizione in classifica costruttore che non abbiamo centrato per il momento è l'obiettivo stagionale quindi dobbiamo assolutamente guadagnare perlomeno un punteggio su Joe che stia per il momento a 3 secondi 8 lo stiamo riprendendo anche abbastanza velocemente purtroppo Schemacher è molto indietro 12 secondi e 5 su Norris quindi è fuori dalla dalla zona punti purtroppo Bottas stabile sempre nei punti e nelle posizioni che contano anche se no è il primo di questo gruppetto quindi se riuscissimo ad agganciare Joe forse forse qualcosina la riusciamo a fare anche perché noi siamo gli unici con la gomma gialla di questo gruppetto davanti a noi quindi è stato 2 secondi e 7 rimettiamo qua equilibrata dai 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 Kevin dai Kevin tra l'altro Verstapp che ci doveva doppiare lì dietro è rimasto non è che si sta avvicinando poi più di tanto insomma non è che sta arrivando così tanto veloce da doverci spostare cioè sta guadagnando a vista d'occhio però non così tanto anche perché pure lui ha le gomme bianche e deve penso pure gestirsi dal 52% quindi dal 50% in poi iniziano a degradare 1 secondo e 9 dai 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 Kevin dai dai noi crediamo in una in una rimonte ripeto stanno tutti attaccati qua fino a Bottas sono tutti attaccati quindi una volta preso il DRS su Joe e poi certo c'è da fare il sorpasso ovviamente però iniziamo intanto ad attaccarci allora 49 dei 56 dai dai diamo un attimino di miscela grassa magari là davanti si stanno un po' sorpassando tra di loro riusciamo a perdere loro perdono un po' più di tempo sperando di agganciarci prima che arrivi Verstappen perché se ce ne vedo Pia e Kevin deve tipo frenare perdiamo tutto il vantaggio e poi non li piamo più quindi se ce ne vedo a passare magari su rettilino ok non siamo ancora in zona DRS noi davanti se le stanno già un po' suonando tra Joe e Gasly e poi c'è Ocon su Bottas che però non sembra impensierirlo più di tanto mettiamo equilibrata Kevin intanto cioè Mick purtroppo 11 secondi da da Norris concentriamoci qui perché forse riusciamo a fare qualcosa sul finale abbiamo agganciato Joe DRS per noi DRS un po' per tutti in verità staravando Verstappen dovremmo cercare di passare sto gruppetto vorrei mettere un po' conservativo Lerz per magari sfoggiarlo nei giri finali siamo molto vicini a Joe vediamo se riusciamo a fare un sorpasso qui Joe si protegge all'interno noi scartiamo no porca puttana che fai passare Verstappen nel punto peggiore dannazione l'abbiamo fatto passare abbiamo pure perso un cavolo di tempo dannazione mo loro se lo ritroveranno su rettilineo sicuro su rettilineo sicuro mo c'è pure Sainz no c'è le Glerk dietro aspetta le Glerk aspetta attenzione dai no così abbiamo perso pure no il DRS ce l'abbiamo però porca trota a meno potevi farlo passare in slancio dannazione attenzione però Gasly ha dovuto rallentare molto però abbiamo perso contatto con il resto del gruppetto lì guarda com'è andato viaggio dannazione dai 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 attenzione qui all'interno no ancora troppo lontano Gasly però non c'è il DRS si protegge all'interno noi tentiamo un sorpasso all'esterno ma non ci riusciamo sarà difficile 52 dei 56 o c'è un decreto spaventoso delle loro gomme 47% 45 insomma saranno un po' approvati però noi con il 60% a parte come finimmo con sta gomma scusa bandiera gialla settore 1 per un attimo attenzione qui all'esterno ci riusciamo Fetter vabbè non ci interessa sta comunque indietro prendiamo posizione su Gasly dai 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 che c'è Joe e Bottas che si stanno dando battaglia i due dell'Alfa Romeo magari è un contatto no qualcosina che li manda out entrambi attenzione siamo a 5 decimi abbiamo il DRS su Joe 53 dei 56 non voglio sforzare le gomme dobbiamo mandarle così dobbiamo avercele più fresche possibile su di loro dai modalità sorpasso magari adesso qua col DRS riusciamo con un po' più di trazione attenzione dietro a Gasly che comunque si fa minaccioso ci conciate l'esterno Joe lo prendiamo e prendiamo la posizione ma Joe non ci sta attenzione Joe non ci sta e concludiamo il sorpasso ancora Joe si infira all'interno vediamo se riusciamo a concluderlo si ho rimesso un attimo su un erro l'herza che appena l'ha subito prosciugato ora DRS ci difendiamo però all'interno tensione qua davanti perché Ocon e Bottas ancora in lotta tra di loro siamo riusciti comunque a prenderci una decima posizione che vale un punticino mondiale ma potenzialmente abbiamo altre due posizioni da poter recuperare lì ora Bottas un pochettino di margine l'ha recuperato però è l'unico che non ha il DRS qui dietro invece ce lo abbiamo tutti quanti 54 dei 56 mettiamo nel mirino con vediamo se riusciamo all'interno non ce la facciamo tensione dobbiamo rimanere ancora dietro tracciata che intanto si è andata un po' a coprire per della nuvolosità ma insomma ormai la gara sta arrivando alla conclusione schumacher è ancora solitario purtroppo quindi concentriamoci qua davanti Ocon che si infila su Bottas fianco a fianco entriamo nello snake di primo settore Ocon non demorde assolutamente noi stiamo per il momento lì a guardare ma siamo nel penultimo giro dobbiamo darci una mossa e vediamo se riusciamo qua in trazione utilizzando anche il DRS sono usciti bene sono usciti bene tra di loro stanno combattendo noi proviamo ad infilarci ma non ci riesce attenzione però con prende posizione su Bottas che poi la riprende cambi e cambi di traiettorie noi per il momento siamo spettatori ma dobbiamo darci una svegliata al settore due bandiera gialla per un attimo attenzione ultimo giro dai c'è stato un bloccaggio in pista attenzione qui DRS purtroppo si aprono a ventaglio non c'è spazio occhio dietro che si sta riavvicinando anche Joe si sta riavvicinando anche Joe andiamo un attimo con la miscela al massimo veramente dobbiamo dare il tutto per tutto qui siamo anche un po' aggressivi su ste gomme dobbiamo assolutamente portarci a casa sto sorpasso attenzione qui prima del rettilineo ci infiliamo su Bottas grande Kevin mettiamo nel minimo anche Ocon che non ha il DRS cerchiamo di difenderci invece su Bottas che tenta l'affondo ma poi demorde attenzione Ocon mantiene la sua posizione per ora attenzione qua andiamo di sorpasso manca veramente pochissime curve dovremmo cercare magari di affondare il sorpasso qui l'ultimissima curva magari in trazione non riusciamo Ocon porta a casa un'ottava posizione bandera a scacchi grande Kevin comunque che ha lottato per gli ultimi giri alla fine gomme gialle che alla distanza hanno pagato loro penso sono arrivati veramente provati 33% peccato un altro giro forse sarebbe stato il top per noi per riuscire appunto a fare bene ma va bene anche così ragazzi va bene anche così peccato che Mick è rimasto un po' attardato alla fine la sosta ha pagato Kevin ma Mick comunque per tutta la prima parte della gara era andato bene insomma con le corbe bianche comunque aveva avuto uno stint decisamente più lungo quindi era andato bene purtroppo vabbè guadagniamo qualcosina in verità sull'alpha romeo perché Joe dovrebbe essere arrivato fuori dai punti infatti quindi prendono punti soltanto Bottas prende un punticino noi ne prendiamo due quindi guadagniamo un punticino sull'alpha non è tantissimo stavano sotto tipo dei 20 punti o qualcosa di più quindi dovevamo fare qualcosina in più comunque Kevin ha guadagnato ben 10 posizioni insomma partivamo diciannovesimo quindi insomma abbiamo fatto una buona prestazione peccato perché come sempre con il secondo di poi magari riuscire a partire bene senza la penalità saremmo partiti comunque nei primi 10 se non ricordo male perché siamo comunque andati in Q2 quindi eravamo undicesimi dodicesimi così quindi magari poi a lungo andare avremmo forse guadagnato qualcosina anche delle altre posizioni però dai gara positiva io c'ho sempre questo noto di mic ragazzi perché troppi errori l'avete visto adesso troppi troppi errori all'inizio l'errore nelle prove libere che ha spacciato la macchina ha compromesso anche tutta la sua preparazione quindi insomma sono molto tra l'altro nei trattativi sta chiedendo soldi come se non ci fossero domani insomma quindi vediamo non dico che voleva arrivare veramente all'ultimo ma poco ci manca è proprio che non abbiamo un sostituto quindi poi pecchiamo uno a caso perché dobbiamo pescare così dal calderone diciamo allora vediamo un attimo classifica piloti che ci sono allora saliamo in no saliamo in decima posizione no perché già ci stavamo quindi rimaniamo in questa posizione ci avviciniamo un pochettino a Bottas ma niente di che in costruttori uguali insomma guadagniamo un punticino sull'Alfa Romeo ma insomma stiamo molto lontani dal da loro che coprono la nostra posizione l'obiettivo stagionale quindi dobbiamo cercare in qualche modo mancano poche gare in verità quindi dobbiamo cercare di inventarci qualcosa mancano tre gare il Messico come ero scordato all'inizio del video quando le stavo elencando ci manca ancora il Messico Messico Brasile e Abu Dhabi va bene ragazzi allora possiamo andare punticino sviluppo per Mick ottimo ok prendiamo comunque un po' di soldini che non sono affatto male alettone interiore completato ottimo questo è il progetto di quello di quello nuovo il prossimo sarà appunto il Messico allora prima che mi dimentico punticino sviluppo per Mick che glielo mettiamo su puoi mettere su difesa dai anzi no no dai cazzo l'ho spiegato l'avrei messo su frenata visto che va sempre a sfasciarsi a testa addosso a qualcosa sarebbe stato ottimo va bene c'è qualcosa di rosso sicuramente qualche componente che dobbiamo andare a riparare che Mick ce la sfasciano tutti quelli che avevamo in magazzino quindi dovremmo sicuramente andarne a creare un altro allora io come sempre ragazzi vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo vi invito se vi fa piacere lasciarmi un mi piace un commentino iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto in descrizione trovate i link ai miei social network a servire il discord in alto a destra la i che vi riporta la blitz del titolo o se avete saltato qualche appuntamento io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao